Il controllo è buono, è pressato e porta a casa il calcio d'angolo E Pirlo, Hansen smanaccia Va Betman e arriva il gol storico, il primo gol in Champions League nella storia del Norsella Lo segna Betman Molto spazio per il cross E arriva il gol di Vucinic con il destro al volo 1-1 E finisce qui